ah gli eriati di un p***o ah morto ah porca di una madonna sempre i coglioni mi prendono e vi è piaciuta la intro spero di sì perché per il dolore che mi ha provocato quel cavolo di pallino lì anzi quel tris di pallini lì spero che ne sia levata la pena riprenderlo va comunque bentornati e scusateci per l'assenza prolungata ma anche noi comunque ci andiamo in vacanze salve a tutti quanti da S dell'Smt Airsoft oggi siamo qui a portarvi un nuovo gameplay con il relativo al commentary di una giocata fatta il nostro urbano contro l'Audi Team di Milano i ragazzi forse il team tra i team migliori in assoluto migliori che sono venuti a giocare con noi in questo campo ora qui vediamo vediamo il mio tentativo di incursione nella base nemica ma io posto lui lo ammazza me nello stesso identico precisi stante si sono sempre dichiarati qua adesso comunque rivediamo la seconda azione tornato a respo ritorno direttamente là in super velocità e cerco di espugnare qua lo spisco sulla mano da un metro fa malissimo scusami come stavo dicendo uno dei tre team migliori più tattici che abbia mai visto in tutta mia vita fuoco 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 particolare vabbè lo stavo inchiappettando però guarda vabbè sono un po' di dettagli veramente tattici veramente leali veramente onesti veramente uno spettacolo giocare con queste persone veramente super consigliato in descrizione vi metto il link della loro pagina facebook così se volete contattarli per una giocata ho i WSS dentro la macchina qua riesco ad ammazzare altre persone il redotto era staratissimo perché finalmente dopo forse sette otto mesi riesco a rigiocare con questo cracker che è il mio fucile che l'ho dato sempre a miguel a m quindi era starato ho avuto una difficoltà a beccare le persone nel primo colpo che è stato veramente incredibile però comunque in questa incursione qua sono riuscito a fare abbastanza kill il peccato è che gran parte le uccisioni dopo lo so lo so le cose successive non le ho potuto riprendere perché mi avevo dimenticato di accendere la videocamera e questa comunque è colpa dei salari universitari ragazzi io ti ho sempre detto studiare fa male alla salute fa male alla salute qui cerco di andare a posizionare la bandiera all'interno la bandiera c'è dietro il mio compagno ma mamma quelli quelli a tendere sono veramente posizionati giù bene uno verso l'altro uno verso il basso veramente veramente eccellente la cosa qui sono nascosto perché mi teniamo inchiodato Tettuzzo ha riuscito a ammazzare la persona in basso io mi spongo verso l'altro perché perché da che ce ne fosse uno sopra invece se era di leguato quello sotto lo colpisco e ora mi sposto questa è la loro basso abbiamo fatto cambio di campo questo lo uccido e vedo uno sennò sopra riesco a dire qua in tempo ho rischiato ho veramente rischiato godo qua non ce l'ho fatto stare zitto forse proprio per questo motivo stupido mi sono non ce l'ho fatto sapere dove era il nemico ma so piccoli dettagli però dai che me frega non lo so non lo so come faceva a giocare con il bacio a scoperte veramente non posso saperlo non voglio neanche saperlo infatti è tornato martoriato sia da zanzare che comunque in pianura padana sono diciamo che è facile incontrarle molto facile incontrarle sia per i pallini prese ora qua ascolto per capirebbero male quanti nemici ci fossero erano stati due uno l'ho preso e uno è lì sulla destra dentro il garage stavano comunicando tra i loro i pallini sentite i pallini sfrecciare rischio ora cerco di farlo spostare la mia aggiusto il tempo di prendere il suo tempo di prendere il contattempo e quindi permettere di aspettarlo fuori e riuscire a colpirlo ovviamente posizionato la bandiera cerco di posizionarmi quello mio compagno in un punto saregicamente adatto bandiera in buca ripeto bandiera in buca e questa è la prima giocata da quando mi sono letteralmente mutilato il ginocchio distrutto il menisco quindi facevo difficoltà a muovere mi facevo difficoltà a salire mi facevo difficoltà a scendere soprattutto a questi benetti mi pare del piffero e la cosa mi ha rotto un po' le palle possiamo dire diciamola così in maniera molto 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 politica di corretto che inglese qua oggi madonna madonna che inglese qua ragazzi se smetti di interazionare ormai ci preghiamo il cazzo di tutti eravamo circa un 8 contro 8 9 contro 9 ormai se non mi ricordo neanche più sinceramente adesso qui scendo dal riparo perché tanto è inutile rimanere con molta fatica fidatevi e cerco di organizzare una difesa della bandiera perché chi alla fine dei 20 minuti ha la bandiera nella buca vince quindi si vedrà il tetto proprio non me caga manco per l'anticamera tetto tetto di qua o te metti di qua fantastico la cosa è fantastico comunque loro due adesso difenderanno la bandiera mi dicono che di qua a destra ci sarà un nemico che non riuscirò a colpire mi ammazzerà e quindi sono qui adesso per farvi saluti ma quando giocate con il lato di team ne va a reverente appena ascoltate anche voi se io guardo i miei amici mi aspetto che loro abbiano capito che loro faccio certe cose in quel caso tutti quanti della figlia dovranno fare un segnale di ok ho capito un segnale di ok è questo stop ascoltate lì oh via uno no c'è un altro c'è un altro porta a destra io io resta bene la secca guarda vieni da qui qua vieni da qui qua e sopra tu non mi hai preso comunque te lo giusto vedete che non mi hai preso comunque